Per Bari, che lo aspettiamo da 15 anni cadere in Serie A E' un orgoglio di tutti i Bari Siamo i malati per il Bari E vogliamo che resteremo in Serie A Prenderete anche uno scudetto? Che è possibile, lo prenderemo Che è possibile, lo prenderemo pure All'armadio di qualche altra squadra, o lo volete prendere proprio voi? No, noi, noi, Bari Perché abbiamo un presidente ricco Abbiamo un mattarese che può andare anche a prendere lo scudetto Cosa prova in questo momento? Beh, ci si prova sempre la realtà di festeggiamento E di gioia più che altro Mi ricordo bene che l'ultima Serie A ci l'ho mandata in Serie B Quale altra gioia nella sua vita è paragonabile a una come questa? La famiglia Ma non dobbiamo andare dietro Un po' più dietro, un po' più dietro Posso? Allora, signora, lei mi ha chiesto un'intervista Sì E perché? Che vuol dire? Senti Senti, signor Stagnano Questa partita Questa partita È stata una partita molto bella È desiderata da tutti i baresi Perché la Bari sono 16 anni che non andava in Serie A Quando ho giocato in Lecce col Bari Hanno messo in striscione Bari di odio Quando ho visto io, sono donna, ho 52 anni Ho visto lo striscione Bari di odio Mi sono agitata È pregita Siete contenti che anche lei ci è andata in Serie A? Sì Abbiamo in Serie A, riporto me Abbiamo la storia Sì Abbiamo Siamo di B Siamo gli Aien Siamo gli Aien Non siamo di B Siamo gli Aia Serie A Serie A Siamo Abbiamo studiato per andare in A E questa volta resteremo Perché Bainà, anche la città, migliori tutta Lei che dice? Certamente Cosa farete voi per farla migliorare? Tutta la città e la provincia Faremo qualsiasi cosa per il Bari Bari squadre o Bari città? Bari squadre o Bari città? La provincia La provincia La provincia La provincia La ho detto pure Tutta la provincia Hanno collaborato con noi Tutti quando Comunque adesso con lei c'è Amore d'accordo Siete con me D'accordo Ma al derby Saremo tutti uniti Ma al derby chi deve vincere? Chiedo scusa Bari Bari Chiedo scusa Bari Mando 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 tante saluti A Gli altre persone come noi Che stanno nel nord Che hanno sofferto insieme a noi Milano, Torino Bergamo Ci sono dei bareschi Che hanno sofferto con noi Avranno una possibilità Grazie Allora a caldo Dopo questi spari Dopo 16 anni La nostra situazione Viva la Bari E' una soddisfazione Che aspettavamo da tanto tempo Questa volta l'abbiamo avuto E siamo veramente soddisfatti Ottavanti E dobbiamo pure dire al presidente Ai Mattarese Di mantenerci in Serie A Non come stanno facendo adesso Not di sì Sì Grazie.